Con una volta Morale fa da apripista, questo grazie ad una sinergia fra Copp Cultura e Regione Siciliana, la sovrintendenza dei beni culturali di Palermo, e una nuova modalità di fruizione di questo sito culturale unico al mondo, una modalità virtuale, una immersione vera e propria nei dettagli di questo gioiello. Una innovazione della quale ringrazio davvero Copp Cultura e che ha permesso ai tanti turisti di continuare a visitare questo sito e di non chiuderlo alle visite, considerato i lavori di restauro che stanno riguardando l'intera area. Quindi è un modo per non sospendere queste visite e consentire ai turisti che arrivano qui a Morale e a tutto il mondo di continuare a godere di queste nostre bellezze. Entro un anno i lavori saranno terminati, riguarderanno anche la gestione del verde che sarà migliorata e arricchita, ma anche un nuovo percorso per i turisti che entreranno da un ingresso da Piazza Guglielmo II e poi usciranno dal Belvedere Comunale. Questo per mettere a servizio l'intero complesso monumentale e quindi il coinvolgimento non soltanto della regione siciliana e della diocesi ma anche quella del Comune di Morale. E' diciamo che da questa necessità di far visitare il chiostro nonostante i lavori di restauro e ci è venuta in soccorso la tecnologia perché spessissimo la tecnologia applicata alla cultura può essere un utile sostegno perché aiuta l'accessibilità, la comprensione maggiore e uno straordinario sostegno per migliorare la fruizione. E quindi la tecnologia va proprio vista a servizio del visitatore e a servizio di chi si occupa proprio di attività culturali come noi, insomma. In questo caso è una tecnologia molto innovativa, cioè della realtà aumentata, che noi avevamo comunque utilizzato durante il lockdown perché abbiamo fatto tantissime visite a distanza. è stato un modo per avvicinare gli studenti e i visitatori all'arte anche in un momento in cui non era possibile visitare musei e monumenti. Il Duomo di Morale è stato tra i primi ad essere mappato, così si dice, da Coppulture, proprio per un uso così, diciamo legato alla modalità di fruizione a distanza e in questo momento la fruizione a distanza è diventata una fruizione on-site ma appunto a supporto del cantiere di restauro. Naturalmente al termine dei lavori l'app continuerà a rimanere fruibile perché l'app è veramente uno strumento per facilitare la visita. Dalle crisi nascono sempre cose belle, per cui dal disagio per i lavori che attualmente si stanno compiendo nel chiostro nasce questa opportunità attraverso la realtà aumentata di fruire di questo complesso e di questo in maniera particolare del chiostro in maniera più dettagliata. e questo aiuta molto, veramente la realtà aumentata in questo è un alleato prezioso per la fruizione del monumento, molti dettagli dei capitelli, diciamo che non è che non si vedano ad occhio nudo ma già a questa distanza si notano poco, invece attraverso questo strumento il visitatore può immergersi, è proprio il caso di dirlo, nella bellezza dei capitelli che sono la cosa più interessante e veramente straordinaria per la ricchezza della fantasia che questi artisti medievali ci hanno dato.